Cosa vuoi ricevere durante i 6p? Se anche tu vuoi ricevere 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu durante i 6p E se questo video di 150 like avendo a far vedere un xp di gioco con un semplice pulsante vi darà davvero tanti xp Ok iniziamo subito Mi raccomando codice coding game 542 in questo modo riceverete i pxp mi supportrete e farò altri video del genere E mi raccomando shoppateci anche il pass battaglia Quindi andiamo qui sul codice e andiamo a mettere questo codice che sarebbe 407785991691 La versione è la 49 e mi raccomando ancora una volta codice coding game 542 ve lo ricordo La partita non deve essere arrivata perché se no il glitch non andrà Grazie vuoi zitta per l'iscrizione Ok in effetti ragazzi ora andiamo ad avviare la partita Ok ragazzi adesso allora andiamo qui alla sinistra dove ci saranno le c4 dobbiamo trovare appunto le c4 ok si trovano qua Qui dobbiamo andare a fare esattamente in questo punto un balletto quindi fate un balletto potete fare quello che volete e qui dovremo trovare il pulsante col punto interrogativo Ora ci vediamo fra 900 secondi ahi mi raccomando di nuovo codice coding game 542 Stalla questa applicazione e metti questo codice anche come secondo metodo per supportare Oltre al mio codice creatore è coding game 542 Perfetto ragazzi ora andiamo a mettere il codice che sarebbe Ok perfetto ora andiamo a mettere il codice che sarebbe 6 Ok poi qui andiamo a mettere 3 Poi andiamo a mettere qua 9 Allora vediamo 5 6 7 8 9 E poi qua andiamo a mettere 1 Qui andiamo a premere qua Premo confirm Look all Ci uscirà questo messaggio Ora raga noi ci troveremo in questa zona Andiamo a prendere Ok perfetto ragazzi ci inizierà a dare XPFK Ora andiamo qui dove ci sarà la lama cinetica Andiamo a fare un balletto ci porterà in questa stanza Qui troveremo un portale Quindi andiamo a fare un altro balletto qui avanti Ed entriamo in questo portale Ora raga prendendo queste cose ci darà davvero tanti XP Quindi potete anche correre E man mano che li prendete vi darà sempre ma sempre di più XP Quindi andate avanti con questo percorso davvero anche molto carino Devo dire un percorso un po' carino Quindi ecco qua raga siamo già a 50.000 XP Ok Perfetto Una volta che siamo qua abbiamo ottenuto questi XP Qui questa è una semplice farm Appunto qua abbiamo già dell'oro che possiamo utilizzare E qui chillando questi polli appunto ci dà queste monete Anche dei piccoli XP Che possiamo andare ad utilizzare per ottenere ancora tanti XP Intanto qua gli XP ce li continuerà a dare Ne darà davvero tantissimi Come vedete sta ancora continuando Beh quindi mi raccomando Codici codingamer52 Se ti è piaciuto questo video Condividi con i temici Lascia un bel like Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Bye Bye